ciao a tutti e benvenuti al mio ristorante al continentale oggi vi voglio preparare due spaghetti con un sugo siete pronti per questo sughetto e allora seguitemi con la cipolla picchietto d'aglio abbiamo fatto rosolare la cipolla e l'aglio e un pochino di anduga non può mancare l'anduga mi raccomando olive possibilmente taggiasche facciamo rosolare bene tutto e adesso aggiungiamo il nostro pomodorino pomodoro fresco qualche filetto di aggiunga sott'olio mettiamo i nostri spaghetti direttamente direttamente nel sugo e aggiungiamo dell'acqua calda ovviamente e cominciamo la nostra bella cottura direttamente nel sugo guardate che spettacolo vero ragazzi guardate che colori guardate che meraviglia ma dovete sentire che sapore provatela e provatela perché è veramente uno spettacolo ed ecco il nostro spaghetto terminato io lo chiamo spaghetto alla john wick beh non ci rimane che assaggiare ma che ve lo dico a fare ciao a tutti